Va a Giuse Nicolini il premio Città del Diario 2016 il riconoscimento che l'Archivio Diaristico Nazionale di Piave Santo Stefano attribuisce ogni anno dal 2005 a una personalità del panorama culturale che si è distinta per la sua attenzione ai temi della memoria. Il tema di quest'anno della 32esima edizione del premio Saverio Tutino è storie emigranti. Per parlare dell'emigrazione noi nei 7300 diari che abbiamo raccolto ce ne sono centinaia e centinaia sull'emigrazione, sull'emigrazione degli italiani a partire dall'Ottocento e del Novecento. Molti di questi sono diventati anche dei libri molto belli e quindi volevamo coniugare questo tema che è sempre stato presente nella cultura europea dell'emigrazione con la nuova migrazione che sta colpendo tutta l'Europa, che sta diventando un tema molto importante anche in politica ma è un tema che riguarda la solidarietà. Ecco, e allora questo collegamento ci è sembrato giusto che la sindaca di Lampedusa fosse con noi a Pieve, e lei ha accettato e ci fa molto piacere ovviamente perché lei è un po' il simbolo. Ecco, è stato detto quando è stato premiato il film di Rosi come Lampedusa è la porta dell'Europa, quindi non è soltanto qualcosa di italiano, però c'è questo collegamento con un tema che è da sempre presente, quello delle migrazioni. Grazie.